E tu, di che talento sei? Scoprilo dal 17 al 20 agosto al Paese dei Balocchi, in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Pano. Musica, spettacoli, artisti di strada, laboratori creativi e giochi. E non può mancare la cucina tradizionale biologica e per celiaci. Il Paese dei Balocchi vi aspetta dal 17 al 20 agosto in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Pano.